28 luglio 1973 vegliate e pregate questi i miei figli sacerdoti che hanno tradito il vangelo per assecondare il grande errore demoniaco del maxismo soprattutto per causa loro verrà presto il castigo del comunismo che spoglierà tutti di ogni cosa si apriranno momenti di grande tribolazione allora saranno questi i miei poveri figli che incominceranno la grande apostasia vegliate e pregate voi tutti sacerdoti a me fedeli grazie a tutti